Ciao ragazzi, siamo qui in Piazza Marti della Libertà, ex Piazza Pintino Sella, come vedrete dalla stanza che si troverà partigianco. E siamo qua perché il 4 giugno 1944, 22 partigiani raccolti e rastrellati nei giorni precedenti dalle truppe tedesche durante un rastrellamento, vennero uccisi qua dietro, alle mie spalle, dove durante la seconda guerra mondiale si trovava il rifugio antiaereo, uno dei rifugi antiaerei della città di Biella. Vennero presi e portati poi fucilati di mattina in modo da lanciare alla popolazione un messaggio chiaro, non si scherza con i tedeschi.